Fa un passo indietro all'amministrazione comunale di Arezzo, almeno per il momento, sull'idea del centro unico di cottura per tutte le menze scolastiche, un progetto che aveva acceso non pochi polemici. È chiaro che è un risparmio, cioè un risparmio a livello di denaro e noi non ci stiamo a lucrare sulla pelle dei bambini, assolutamente no. L'assessore Lucia Tanti ha infatti annunciato lo stop al bando pubblicato per il project financing orientato appunto alla realizzazione e alla gestione della supermenza. Sono 3.000 ad oggi passi da preparare per le 58 scuole, di cui 46 sono già passi veicolati. Delle 12 cucine attualmente interne, 3 sarebbero comunque rimaste perché ci sono i lattanti, 9 invece sarebbero state quelle da chiudere. Sono punti nati negli anni 70-80, quindi nati con normative di quegli anni, buoni per quegli anni, buoni per quei numeri, ma soprattutto sono cambiate le normative sui diritti. Noi oggi per i bambini celiaci abbiamo tutto un percorso di cucina, di cottura, di distribuzione, di erogazione per tutte le cosiddette diete personalizzate dai vegetariani, compresi i vegani, hanno diritto di avere un pasto per chi glielo riconosce lo Stato a loro dedicato, cosa che negli anni 70-80 non era. Quindi chi oggi dice che dobbiamo rimanere con i nuovi punti mensa non solo dice una cosa che è un po' fuori dal tempo, ma dice una cosa che è contro i diritti. La decisione è dunque rimandata all'amministrazione, inoltre si è detta aperta ad un dialogo con i genitori degli alunni per individuare una soluzione condivisa. Io sono della scuola rappresentante mensa della scuola Don Milani, hanno fatto una cucina nuova, a settembre l'hanno montata, e io non so a quanto montasse il budget, ma sicuramente si parla di migliaia di euro. Un conto è parlare di una distribuzione di vicinanza, come ripeto, faccio parte della Pio Borri, però è la Pio Borri che la porta al Fonterosa o alle scuole limitrofe. E quindi la garanzia sul gusto e sulla qualità sicuramente ha delle prerogative rispetto a quelle invece determinate da un trasporto che verrà da un centro unico a tutte le 58 scuole. Adesso ci sono mense che fanno 150-200 coperti, ma una mensa che ne fa 3.000 e che è costretta a cucinare alcune pietanze, alle 9 e mezzo, alle 10 di mattina. Me lo spiegate voi quando poi i bambini vanno a mangiare a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, cosa gli si passa come educazione? Perché qui non è il problema il piatto riscaldato della nonna, qui il problema è un piatto riscaldato che chiedo a tutti e mi chiedo per me, ma voi lo mangereste quotidianamente?